Non è un'epidemia, non è una catastrofe naturale, non è una forza oscura, ma ha sconvolto l'America colpendola alla gola. Per celebrare l'inizio dell'autunno, Realtime ti invita a un appuntamento da Incubo. Cucine da Incubo USA, due nuovi episodi in anteprima esclusiva. Mercoledì 21 settembre dalle 21.10, solo su Realtime. Grazie.